Luigi Di Maio, candidato a prendere del Movimento 5 Stelle. Buonasera, buonasera, si accomodi pure lì. Grazie. Allora, prima di tutto vogliamo vederla questa lista di 17, ma compreso lei 18. 18. Potenziali ministri di un ipotetico governo 5 Stelle. Stefano Sandrucci. Palazzo Chigi, il Movimento 5 Stelle ha deciso la squadra di governo che affiancherà Luigi Di Maio in caso di vittoria alle elezioni. 12 uomini, 5 donne, in tutto 17 ministri. Andrea Roventini, economista del Sant'Anna di Pisa, potrebbe guidare il Ministero dell'Economia. Di Maio, con lui, torneremo a fare politica espansiva. Un altro economista, Lorenzo Fioramonti, ha lo sviluppo economico. 41 anni, è professore all'Università Sudafricana di Pretoria. Ha lavoro Pasquale Tridico, docente di politica economica e del lavoro a Roma 3, che ha detto, via Jobs Act congeleremo la legge Fornero. Allo sport, invece, un volto noto, il nuotatore medaglia d'oro Domenico Fioravanti. Il generale dei Carabinieri, ex forestale Sergio Costa, al Ministero dell'Ambiente, ha indagato sulle discariche della terra dei fuochi in Campania. Salvatore Giuliano, il preside 2.0 dell'Istituto Maiorana di Brindisi, potrebbe andare all'istruzione. Buona scuola, tutta da buttare e da riscrivere da capo. Armando Bartolazzi, ricercatore e oncologo dell'ospedale Sant'Andrea di Roma, invece, alla sanità. Alla pubblica amministrazione Giuseppe Conte, è ordinario di diritto privato a Firenze. Un piano straordinario di riqualificazione del personale pubblico. Mentre la criminologa Paola Giannetakis potrebbe andare agli interni. Alla difesa, Elisabetta Trenta, vice direttore del master in sicurezza all'Inc Campus di Roma. La professoressa di sociologia politica Emanuella Del Re potrebbe andare agli esteri. Mentre alla giustizia, Alfonso Bonafede, avvocato e deputato uscente. Alle politiche agricole, il nome è quello di Alessandra Pesce, già dirigente del ministero. Agli altri ministeri, Mauro Coltorti, docente di scienze ambientali, Alberto Bonisoli, direttore della nuova Accademia di Belle Arti di Milano, Filomena Maggino, docente di statistica, Riccardo Fraccaro, deputato uscente. Governo Ombra, governo alla luce del sole, a deciderlo saranno le elezioni. Perché quasi tutti tecnici? Non vi fidate dei vostri esponenti politici? No, ma io non li definirei assolutamente tecnici. Queste sono persone che hanno profonda conoscenza nei ministeri dove ho deciso di proporli. Ma ognuno di loro ha esperienze sul campo, metteranno testa e cuore in quello che fanno. Sarà molto importante perché i tecnici li abbiamo già vissuti in passato. Cioè che differenza c'è col governo Monti? Prima di tutto questo governo ha una guida politica ed è una guida politica rappresentata da me, che sono oggi il candidato premier, spero, presidente del Consiglio dei Ministri da lunedì. I candidati ai ministeri che ho individuato, ognuno di loro... Ma e Salvini tutti e due? Vabbè, non lo so, Salvini. Salvini è una forza politica che ha la metà del consenso del Movimento 5 Stelle, quindi oggi, se lui lo dice, ha la maggior ragione e io lo devo sperare molto di più. Le persone che ho individuato seguiranno il programma, la linea politica, ma soprattutto ognuno con la loro storia personale incarna i valori del Movimento, anche non essendo necessariamente vicino al Movimento. Voglio spendere una parola su Andrea Roventini, che è il nostro candidato al Ministero dell'Economia e Finanza. All'età di Macron, ma già scrive con un premio Nobel come Stiglitz ed è del top 10% degli economisti a livello mondiale. Senta, però, senza una maggioranza, a che cosa serve presentare una lista dei ministri? Perché avete fatto i conti, possiamo dire, senza il Quirinale, senza il voto degli italiani e senza il Parlamento finora. Prima di tutto questa squadra qui sarà l'unica squadra votata dagli italiani. Avevamo fatto una promessa tanti anni fa, nel 2014, che nel momento in cui arrivavano le elezioni politiche noi avremmo presentato una squadra di governo. Abbiamo mantenuto tutte le promesse, un candidato premier, squadra di governo, programma e coperture economiche. Questa squadra qui noi l'abbiamo presentata prima anche per una cosa. Poltrone non ne dobbiamo scambiare, mettiamo le persone giuste al posto giusto. Sono gli altri che sono pronti a scambiare poltrone e per questo chiedo agli italiani di votare per noi. Però se voi sarete costretti, se non raggiungerete il 40%, ad un accordo con gli altri partiti, nessuno accetterà mai un governo già fatto dal Movimento 5 Stelle, ci sarà comunque una trattativa da portare avanti. Se il Movimento 5 Stelle sarà la prima forza politica del Paese domenica notte allo spoglio delle urne, allora a quel punto a noi starà a fare la prima mossa. E vogliamo cambiare il metodo. Non esiste più che il giorno dopo per riuscire a far partire la legislatura si parla di sottosegretari, viceministri e ministri. Siccome o hanno a che fare con noi o si torna a votare, allora cambieremo il modo di fare avviare le legislature semplicemente dicendo invece delle poltrone discutiamo dei temi per gli italiani, mettiamole al centro e su quei temi si avvia il programma dei lavori della prossima legislatura. Ma se voi trovate un accordo con gli altri partiti su quei temi, però, non so, mettiamo che trovate un accordo, faccio fantascienza, col Partito Democratico su alcuni temi, però il Partito Democratico dice però a me quel ministro che deve realizzare questi temi non mi sta bene, che cosa succede? Ma le persone che ho individuato, secondo me più che farci dire dalle forze politiche perché sì, le forze politiche ci devono dire perché no. Io ho individuato delle eccellenze qui che vengono da vari mondi, soprattutto per esempio alla salute c'è lo scienziato, come avete detto, Bartolazzi, ha scoperto un nuovo metodo di diagnosi per la tiroide, ma è un ospedaliero, è uno che ogni giorno sta nei reparti ospedaliere a lavorare. Però ognuno può pensare di avere delle eccellenze superiori a quelli che ha individuato lei. Dalle proposte che ho sentito, uno vuole mettere Brunetta all'economia, io ci ho messo uno del top 10% a livello mondiale e l'altro vuole mettere Bertolaso all'emergenza, dopo tutto quello che hanno combinato all'Aquila. Ma questo è Berlusconi, per esempio, Minniti all'interno, vi piacerebbe? Io in questo momento non credo che il PD, ma io non credo proprio che il Partito Democratico stia in una partita di governo nella prossima legislatura, ma non perché spero che ci sia il centro-destra, io spero che gli italiani mi possano dare il consenso domenica per ignorarli. E per questo voglio dire una cosa, nei collegi soprattutto del sud è testa a testa tra noi e il centro-destra. Capisco che qualcuno voglia votare a sinistra perché si sente di sinistra, il problema è che quelli non sono più partiti di sinistra, quindi io chiedo a quei cittadini di non sprecare il voto a sinistra, ci diano una mano a mandare a casa Berlusconi, Salvini e Meloni. Allora, andiamo a vedere un po' questi ministri, perché sa che ci sono state polemiche col Partito Democratico. Intanto il primo vi volevo chiedere, il ministro dell'economia Andrea Roventini ha detto subito che l'uscita dall'euro non è in discussione, condividere il suo parole? Assolutamente, non a caso Andrea Roventini, io l'ho scelto come ministro perché con lui prima di tutto la smetteremo con l'austerity e cominceremo a fare manovre espansive, cioè significa cominciare a mettere risorse fresche in strade, autostrade, ferrovie, welfare. Come in deficit però, perché non ci sarà altra possibilità, quindi accrescendo il debito pubblico. No, non accrescendo, cominciando a ripagare il debito pubblico, perché non facendo deficit in questi anni il debito pubblico è schizzato alle stelle. Con Andrea Roventini, i suoi studi, quelli che ha fatto alla Sant'Anna di Pisa, con i premi Nobel, riusciremo finalmente a prendere soldi freschi e a metterli soprattutto nel sud, nelle grandi opere, nelle piccole opere che serviranno a rilanciare l'edilizia e il lavoro soprattutto per i più giovani. Allora, poi Paola Giannettachis, che è il Ministro dell'Interno, ha firmato per il Sì al referendum costituzionale. La grande polemica che io ho visto in queste ore è perché Paola Giannettachis oltre un anno fa aveva compilato un modulo online per un appello pacato per il Sì. E l'altra polemica è su Salvatore Giuliano, il Ministro dell'Istruzione, che si dice abbia simpatizzato per Renzi in passato, quando invece ha detto a Renzi, l'ha invogliato in tempi non sospetti, vada avanti. Queste persone qui... Sì, però, aspetta, scusi se la interrompo, non è che aveva simpatizzato, era stato un collaboratore del Ministero e aveva collaborato alla scrittura della Buona Scuola che voi volete demolire. E io l'ho conosciuto quando... Quindi come fate a demolirla con lui? E lo sa perché ho preso Salvatore Giuliano. Prima di tutto è un ottimo preside... Aveva detto al Presidente, vai avanti, siamo tutti con te. Ma non sulla Buona Scuola, ma al di là di quello. Salvatore Giuliano è un ottimo preside dell'Istituto Majorana di Brindisi, che è una scuola d'eccellenza, la più innovativa in Italia. È riuscito a rivoluzionare il metodo di insegnamento e di apprendimento. Salvatore, quando l'ho conosciuto, mi ha detto guarda io avevo partecipato al cantiere della Buona Scuola, avevamo messo in piedi una grande legge, quando l'hanno scritta e l'hanno approvata, l'hanno stravolta. Se vengo con te al Ministero dell'Istruzione, insieme aboliremo la Buona Scuola. E Salvatore Giuliano passerà la storia, se gli italiani vorranno, come il ministro, dirigente scolastico, che avrà abolito la Buona Scuola. Però era quello che comunque... Fino alla volta... Ma no, ma lei conosce meglio di me queste cose. Si chiamano gli esperti, si fanno scrivere i progetti e poi quando scrivono le leggi si tradiscono i progetti degli esperti. Allora, e c'è un'altra vostra candidata all'agricoltura, che si chiama Alessandra Pesce. Ecco, di quella voglio farle sentire che cosa dice il segretario del Partito Democratico. Per il ruolo di Ministro dell'Agricoltura, il Movimento 5 Stelle propone una donna che oggi è caposegreteria tecnica del viceministro Olivero del ministro Martina. Cioè loro prendono la caposegreteria, la caposegreteria tecnica dell'attuale viceministro che lavora col ministro. E cosa dice questa caposegreteria intervistata in diretta? Dice, cosa ne pensa del lavoro che ha fatto il ministro Martina? Ah, un ottimo lavoro e un ottimo ministro. Ora io dico, volete votare la squadra? Bene. Preferite votare la caposegreteria tecnica del viceministro che risponde al ministro e che parla bene del ministro? O accontentarvi direttamente del ministro attuale? Comunque, io a Renzi riconosco... Non ho riconoscimento al ministro. No, io penso che sia un riconoscimento continuo al Movimento 5 Stelle. Il campione dei boomerang di questa campagna elettorale è lui. Perché ha fatto una grande pubblicità la dottoressa Pesce, che tra l'altro fa parte di quella squadra che in questi anni è andata a contrattare la politica agricola comunitaria a livello europeo. E come tutti sanno, dietro il lavoro dei ministri e dei viceministri, ci sono sempre grandi tecnici. Io ho scelto lei perché questa legislatura dovrà ricontrattare i fondi che vanno all'agricoltura dall'Unione Europea. Lei li sa amministrare, li sa contrattare e soprattutto avrà le mani libere, non come Martina e il suo ministro, il ministro di Renzi, voglio dire Martina, che in questi anni è stato uno di quei ministri che ha fatto parte del governo di Renzi. Chi vuole votare per quella gente lì che ha già governato l'opportunità l'ha avuta. Però la Pesce parla molto bene del ministro Martina. Alessandra Pesce ha detto che per lei è stato fatto un buon lavoro ma bisogna fare molto di più. E beh, certo. E quel molto di più, per questo io ho chiamato Alessandra Pesce, perché quel molto di più potrà farlo. Però trattare così una persona che lavora anche per un ministero è veramente indegno. No, ma lui lo dice forse per far capire che la sua squadra poi non era così da buttare. Ma ha sminuita dicendo che volete votare per Martina, tra l'altro l'agricoltura non è che c'entri molto, oppure il suo capo della segreteria tecnica, con questo tono dispregiativo. Questa gente ha studiato, è una dirigente di ricerca. Mostri rispetto verso queste persone. Senta, c'è una squadra che lei avrebbe voluto, una squadra, scusi, un nome, che avrebbe voluto portare in squadra e non è riuscito? Ovviamente in questo caso... Quello che più gli è dispiaciuto, insomma, ce ne dica una. No, vige la riservatezza. Non ce lo può dire. Ma le posso dire che c'è stato un fenomeno molto, molto entusiasmante. Cioè, tante di queste persone sono venute loro da me. non sono andato io a reclutarle, diciamo, a pregarle. Queste persone, quando io ho fatto l'appello pubblico, loro hanno risposto e mi hanno detto sono a tua disposizione. Ovviamente io con questa gente ho già lavorato in passato, cioè le conoscevo, altrimenti non avrei mai preso sconosciuti nella nostra squadra. Ieri Beppe Grillo ha scritto forse è finita la mia epoca del Vaffa. Anche lui adesso è in questa chiave di rassicurazione nei confronti dell'elettorato. No, credo che... Cosa sarà da adesso in poi il Movimento 5 Stelle? Quello che è sempre stato... Al di là del fatto che ottenga o non ottenga il governo. Il Movimento 5 Stelle è una forza in evoluzione continua. Si chiama Movimento anche per questo. È continuamente in movimento e in evoluzione. Ma non abbiamo mai tradito quelli che sono i nostri principi base. Cioè i nostri futuri parlamentari, anche i nostri futuri ministri continueranno a rispettare le regole del Movimento 5 Stelle, quelle che riguardano i privilegi, quelle che riguardano le condanne, quello che riguarda la questione morale. Grandi temi. Ma voglio dire una cosa. Molti dei temi che abbiamo nel nostro programma oggi rappresentano proprio quei temi che la sinistra ha tradito, come altri che ha tradito la destra. Vorrei dire ai tanti giovani, anche che stanno per votare il centro-sinistra, ma stanno per sprecare il loro voto, perché è un voto che va a Berlusconi, di leggersi il nostro programma. Ognuno fa questo ragionamento sull'altro. E di sapere una cosa, che stiamo per realizzare alcune cose che dovevano realizzare i loro partiti e non l'hanno mai fatta. Ecco, ma lei esclude, se non doveste avere una maggioranza, categoricamente di poter portare avanti in Parlamento un'alleanza con i 5 Stelle? Un'alleanza con i 5 Stelle? Scusi, con la Lega? Ma io escludo categoricamente qualsiasi tipo di alleanza. Spero di avere i voti domenica per ignorarli. Si troverete un accordo di programma con la Lega? Ho sempre detto, al di là delle singole forze politiche, se non dovessero esserci numeri la serie delle elezioni, di poltrone non se ne parla. Ma si fa un appello pubblico a tutte le forze politiche e si dice, da oggi si comincia a lavorare per la gente fuori dai palazzi, non quelli dentro i palazzi. Ditemi i temi su cui volete lavorare. Certo, con la Lega c'è un problema. Non è semplice pensare a questa forza politica come la ex Lega Nord. È sempre la Lega Nord, ma soprattutto quella Lega che diceva Vesuvio lavali col fuoco, Etna lavali col fuoco. Non credo neanche i cittadini del Nord abbiano mai pensato. Ecco, però la Lega su alcune questioni la pensa come vuoi. Per esempio, il loro programma riguardo all'immigrazione è molto simile a quello del Movimento 5 Stelle. Quindi delle intese le potereste trovare. Io adesso potrei risponderle. No, il programma è diverso. La verità è che sia il centro-destra che il centro-sinistra l'hanno già governato. Oggi ci vengono a proporre dei programmi bellissimi, stupendi. Ma io dico, volete cambiare l'Italia oggi? Ma perché non l'avete cambiata quando stavate governando? Adesso diamoci un'opportunità di cambiamento. Sì, ma siccome la legge lei sa quella che è, e non è detto che voi potreste raggiungere da solo il 40%. Noi stiamo sottovalutando la questione del 40%. Lei pensa davvero di poter arrivare al 40%? Non è una questione di consenso del 30% o del 40%, ma di quanti unilominali si portano a casa. E nelle prossime ore il cittadino sarà fondamentale negli unilominali soprattutto del centro-sud, dove in bilico ci siamo noi e il centro-destra. E un voto in più fa la differenza per mandare a casa Salvini, Meloni, Berlusconi, gli alleati di Orban, di Le Penne, Alternative for Deutschland, tutti quei partiti xenofobi e estremisti di destra europei e darci un'opportunità per fare le cose che si devono fare, soprattutto nel sud, nelle infrastrutture, di quello che bisogna affrontare per l'economia e per il lavoro dei giovani. Mercoledì il New York Times vi ha dedicato un articolo in cui si parla anche di Davide Casaleggio, capo misterioso ed enigmatico di un partito opaco. Quale sarà il suo ruolo nel caso di una vittoria al Movimento? Resta sempre lo stesso, non sarà una persona eletta, non sarà una persona che avrà incarichi di governo. Davide Casaleggio è un patrimonio del Movimento che ha sempre portato avanti insieme a suo padre lo sviluppo delle nostre piattaforme tecnologiche. Oggi siamo la prima forza politica del Paese, senza avere sedi e senza avere strutture di partito, perché utilizziamo un sistema operativo che si chiama Rousseau, che è un'invenzione tecnologica a livello mondiale che Davide e suo padre hanno sviluppato. Perché non si è voluto confrontare pubblicamente durante questa campagna elettorale con altri leader? Non c'è stato nessun confronto da parte di nessuno di voi con lei, nel Renzi, nel Salvini, nel Berlusconi. Io ho preteso di sapere una cosa. Non pensa che gli elettori, come dire, sia dovuto un confronto? Io credo che i cittadini italiani volessero un confronto tra i candidati premier. Io sono candidato alla presenza del Consiglio dei Ministri per il Movimento. Il candidato del centro-sinistra non si è capito ieri, perché prima lo era Renzi e oggi ha detto faccio un passo indietro e lascio il passo ad altri, perché evidentemente hanno capito che è finita. Nel centro-destra ieri si è lanciato Tajani, Salvini dice di essere lui, Meloni dice di essere lei e Berlusconi dice che nessuno di tutti e due. Grasso l'altro giorno ha detto pronta ad un'alleanza con Renzi e Berlusconi per un governo tecnico. Qui io quello che vedo è che tutti insieme si stanno alleando contro di noi, ma confondono le carte e stanno per fregare gli italiani, perché così a Palazzo Chigi porteranno uno che in queste elezioni neanche abbiamo conosciuto. Da noi, votando per noi, sanno gli italiani che si vota a carta e scoperta. Conferma il limite dei due mandati? Lo confermo anche perché... Se lei sarà nominato... Lo confermo anche perché secondo me è una grande opportunità per il Paese. I cittadini devono sapere che... e sanno che il Movimento 5 Stelle ha un limite di due mandati. Fai due mandati, un contratto a tempo determinato per fare le cose. Se non le sai fare, dopo dieci anni, te ne devi andare a casa. Se non sarete il primo partito, perché potrebbe esserci la prima coalizione al posto vostro, cioè la coalizione di centrodestra, non voi sarete... Ma quella non è una coalizione. Una coalizione che potrebbe raggiungere il 40%. Che cosa farà in quel caso? Io ne dubito, non sto pensando a questo scenario, anche perché è già successo in Sicilia tre mesi fa, che si è sfaldata la coalizione di centrodestra due settimane dopo le elezioni. Salvini è già uscito alla maggioranza, solo che nessuno ne parla del caos Sicilia che sta avvenendo anche in queste ore. Cento giorni non si è fatto nulla in quella regione, solo Sgarbi, ministro della Cultura, che sta nel mio collegio paracadutato in provincia di Napoli, a offendermi ogni giorno. Ma alla fine, l'unica cosa che posso dire è che quella coalizione, la sera dopo le elezioni, si sfalderà in mille pezzi e contribuirà a creare ancora più caos. Dateci l'opportunità di ignorarli. Noi possiamo assicurare un po' di stabilità, lo so che è paradossale, però oggi l'unica forza politica che può assicurare un po' di stabilità istituzionale siamo noi, perché loro sono delle ammucchiate di tre o quattro partiti che litigano ogni giorno, non andranno d'accordo dopo come non sono andati d'accordo prima. Vedremo adesso, poi se anche voi non sarete costretti in un modo o nell'altro, in ogni caso, a trovare delle alleanze elettorali in Parlamento. Ne dubito. Di tutti i partiti che ci sono, ce n'è uno con libri uguali, per esempio, potreste cercare di dialogare di più che con gli altri? Guardi, questi sono temi, secondo me, che affronteremo da lunedì per una semplice ragione. Non conosciamo la configurazione del Parlamento e non sappiamo quanti seggi prenderanno questi signori e soprattutto io di loro non mi fido, quindi dovremmo trovare un modo per vincolarli alle cose da fare. Un'ultima domanda rapidissima. Domani giornata di silenzio elettorale, che cosa farà? Io domani sono qui a Roma e facciamo una riunione con il mio staff per organizzare lo spoglio e tutta la macchina che c'è a livello nazionale dei rappresentanti di lista. Va bene, quindi lavora anche domani. Sì. Bene, allora, grazie a Luigi Di Maio. Grazie mille, buon lavoro. Buon lavoro. e noi adesso...